Ciao sono Samuele e in questo video ti porto un case study di come ho fatto circa 1800 dollari in tre giorni con uno store dropshipping praticamente defunto. Tra poco partiamo subito, come al solito prima ti invito a seguire gli step che trovi qua sotto per rimanere attivo con me su tutti i miei social e non perderti neanche una news, che sia il gruppo Facebook, la mia pagina Instagram o i nuovi video sul canale YouTube. Non voglio perdere troppo tempo, infatti ci buttiamo subito sul case study, quindi in questo video appunto ti faccio vedere quali sono stati gli step, insomma qual è stata la storia dietro a questo store. Ci tengo a dirti che ho aggiornato praticamente in questi tre giorni, ogni giorno, quasi ogni ora su Instagram tra le mie storie, appunto gli update di questo store. Quindi essendo che ne porterò molti altri ti invito nuovamente a seguirmi sulla mia pagina Instagram, lo dico per te perché c'è stato un bel bel riscontro in quei giorni su Instagram, ho diciamo aggiornato quello che facevo, cosa utilizzavo, come mi muovevo e cosa stavo facendo a livello proprio di sponsorizzate, quindi lì non ti perderai sicuramente nessuna storia. Partiamo dal giorno 1 e partiamo ancora prima da cosa mi ha spinto a fare questo esperimento. Un giorno, circa 10 giorni fa, adesso un paio di settimane fa più o meno quando sto registrando questo video, ricevetti da uno store che non stavo più utilizzando un ordine nella notte, totalmente a caso, cioè ha fatto tipo 3 visitatori e ha convertito una persona a quello store che ormai non stavo più vendendo, non stavo più utilizzando né niente. È arrivata questa vendita e mi ha ricordato praticamente di questo store, cioè mi sono ricordato che avevo questo store che era, ripeto ho detto prima praticamente defunto, ma in effetti avevo fatto un gran lavoro, l'avevo creato proprio come fossi io il fondatore, quindi avevo fatto un one product store come si deve, però poi diciamo l'avevo testato con Facebook Ads, sì avevo fatto delle vendite, ma non ci avevo dato troppo peso, quindi poi l'ho lasciato stare, era uno dei miei soliti test che avevo reputato fallimentare. Ti dico la verità, vedere quell'ordine mi ha fatto un po' tornare la voglia, anche perché di nuovo ci avevo speso parecchio tempo su quello store e mi dispiaceva non monetizzarlo come si deve. Ho fatto quindi un sondaggio su Instagram, ha ricevuto tipo oltre il 90% dei sì vogliamo vedere il case study, o comunque vogliamo vedere la sfida, la sfida trattava di raggiungere 1000 dollari al giorno, dopo un, diciamo avevo detto una settimana, poi le cose sono velocizzate. Non ho mai raggiunto teoricamente quell'obiettivo, infatti come vedrai dopo l'ho praticamente sfiorato, però i risultati sono assolutamente vincenti, inteso che comunque il case study, la challenge è stata superata. Quindi per partire mi ha dato un boost anche il fatto che sono andato su Aliexpress a cercare quello stesso prodotto per vedere se c'era stato un aumento di prezzo, come erano le vendite in quel periodo, e ho notato che i top seller che, diciamo un paio di mesi prima, quando avevo lanciato, testato, avevano 500-1000 ordini, adesso erano spariti, quindi c'erano solo dei venditori con 20, 30, 50 massimo ordini, il che mi ha aiutato perché vuol dire che tutti i miei competitor del tempo in qualche modo avevano smesso di spingerlo, avevano chiuso, il prodotto magari aveva avuto delle motivazioni per cui quei seller hanno dovuto toglierlo, hanno voluto toglierlo, e quindi questa cosa mi ha aiutato. Senza perdere altro tempo, giorno 1 questo è stato il risultato, quindi quasi 250 dollari in vendite, e per questa strategia abbiamo utilizzato solamente Facebook Ads, quindi ho utilizzato la Keys Strategy, strategia che trovi completa in una lezione da quasi un'ora nel mio corso Dropshipping Keys, che trovi nella descrizione di questo video, ho applicato quella stessa strategia, mi ha dato questo bel risultato, così che poi nel secondo giorno ho potuto scalarlo, quindi la sera, passate 24 ore dal primo test, ho scalato, ho messo più budget, ho scalato le ads vincenti, il giorno 2 abbiamo fatto oltre 500 dollari, quindi quasi 600 di nuovo, nuovamente qui ancora, il terzo giorno, quando continuo a vedere delle ads e delle campagne che fanno bei numeri, devi continuare a scalare quei vincitori, non è tanto un fatto di testare cosa non ha funzionato, ma è un fatto di scalare che cosa ha funzionato di contro, quindi prese quelle sponsorizzate che mi davano il maggior numero di risultati, ci ho messo più budget, le ho scalate diminuendo anche i costi e aumentando quindi la performance, ciò significa definire un range di età ottimale per quel prodotto, che ho visto dai dati che mi hanno dato le sponsorizzate, modificare i placement o i device, device è una cosa un po' più avanzata e che importa magari solo prodotti tipo case, oppure delle airpod, cose del genere, però in questo esempio placement, quindi se le vendite arrivano da facebook, duplico e faccio per facebook la campagna, oppure duplico e faccio per instagram, fino ad arrivare appunto al terzo giorno in cui la spesa era davvero consistente, parliamo di circa 400 dollari, e ci ha portato un risultato finale di quel singolo giorno a 900 dollari, quindi quasi 1000, come ti dicevo prima, per un totale però di questi tre giorni che ci ha portato 1784,49 dollari come numero totale. Quindi questo era il recap, adesso ci tengo a farti vedere i numeri esatti di quei giorni, quindi le vendite te le ho appena detto, 1784, il costo totale delle azze è stato di circa 650 dollari, il costo del prodotto totale era di 6,99, io lo vendevo per 34,99, e infatti abbiamo totalizzato 51 ordini totali, quindi un costo dei prodotti di 356,49 dollari, il costo totale sia del prodotto e delle sponsorizzate è stato esattamente di 1006,49 dollari, il che ci ha portato un profitto netto di 778 dollari e una percentuale di questo margine di profitto che è 43%, una percentuale molto molto buona e questo mi ha aiutato sicuramente sul costo del prodotto e la vendita, cioè proprio il fatto che i top seller di Aliexpress hanno smesso di vendere quel prodotto, mi ha permesso di aumentare il prezzo, prima quel prezzo era 24,95 se non sbaglio, oppure sicuramente sotto i 30 dollari, mentre facendo una strategia di questo tipo e grazie nuovamente ai top seller che sono spariti, ho potuto aumentare il prezzo perché ero diventato praticamente quasi l'unico che vendeva quel prodotto e mi sono permesso nuovamente di aumentare il prezzo di vendita, se qualcuno voleva quel prodotto e vedeva una sponsorizzata in quel momento era la mia e doveva comprarlo per forza da me. Quindi alla fine dei conti questo case study è stato assolutamente un case study di successo, nei giorni successivi ho rallentato con le sponsorizzate anche perché diciamo che poco fa c'è stato il Black Friday o almeno poco fa rispetto a quando sto registrando questo video, mi sono concentrato molto molto sul preparare la strategia di lancio adesso, quindi non ho dato più di tanto peso a questo store, anche perché è vero in tre giorni abbiamo fatto un ottimo ottimo numero, ma come hai capito le spese, insomma il costo delle ads è stato medio alto direi. Tuttavia siamo stati in profitto, abbiamo avuto successo, quindi questa sfida è stata confermata, mi avete dato un feedback incredibilmente buono e spero valga lo stesso anche qui per YouTube, quindi ti invito a lasciarmi un mi piace se ti è piaciuto questo video, se ti è piaciuto questo case study e se vuoi che porto magari più avanti delle sfide uguali e in diretta. Sto pensando infatti di portare delle vere sfide qui su YouTube da fare magari proprio in una serie di video, quindi facciamo una serie in cui in live costruiamo lo store, facciamo delle Facebook ads, ads con influencer e lo portiamo ad un profitto. Quindi se ti piace questa idea, se ti è piaciuto questo video lasciami un bel mi piace, un commento, fammi sapere insomma la tua. Come al solito ti invito ad iscriverti, attivare le notifiche, seguirmi su Instagram, partecipare al gruppo Facebook e se vuoi capire esattamente la strategia che ho utilizzato per fare questo numero la trovi nel mio corso assieme a oltre 120 lezioni inedite, il corso è Dropshipping Keys e lo trovi nella descrizione di questo video. Io ti ringrazio nuovamente e ci vediamo alla prossima.